Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su PC Building Simulator 2 Raga, come sempre, prima di cominciare con il gameplay vi vado a ricordare che in descrizione se può interessarvi trovate il link che vi permette di comprare tanti giochi scontati Vi ricordo anche dei miei canali social, se vi va di guardarmi in live mi ci trovate su Twitch Dalle 21 in poi la sera appunto E ultima cosa, se vi iscrivete al canale ricordatevi la campanellina per ricevere una notifica Ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale Allora ragazzi, ok, vi ringrazio per avermi detto che praticamente ho montato il dissipatore sbagliato in questo PC Ma, neanche ci ho fatto caso, raga, quindi questo è quello che ho comprato io Non ci ho proprio fatto caso, cavolo Non pensavo che era quello, non mi è venuto in mente Quindi dovrei aver usato Però ho letto usato, ho pensato Collegato a un lavoro, ho pensato che era lui Però aspetta, ovnet by, by key Ah, ovnet, vabbè Ma che ne sapevo Vabbè, il cavo è già collegato, ovviamente no Quindi almeno abbiamo risolto Grazie a voi questo dilemma che mi stava stressando non poco Allora, niente, quindi devo accenderlo e basta Ok, ci siamo tolti dalle balle questo computer Però purtroppo poi non abbiamo capito invece cosa è successo con quell'altro Quello lì che ho smontato perché tutte le schede video erano incompatibili Quindi, beh, non lo so manco io Allora, vediamo di capirci qualche cosa Che è l'ultimo, proprio l'ultimo gameplay mi ha confuso di brutto Ok, almeno me lo so fatto pagare Lavora duro, a voglia, porca miseria Installa Ryzen 5 1600 Ok, Roger Ryzen 5 1600 Vabbè, basta scrivere 1600 Vediamo un po' 1600, tanto non ne ho Quale dei due? X L'X costa di più Va benissimo E tanto lui vuole proprio l'X Ok, confirm Ok, questo è andato Ok Allora, questo qui a posto Questo? Questo qua ce l'abbiamo già, credo Non lo so Nuove parti sbloccato Un momento Applicato the case Ah, questo ancora deve arrivare Ok, ok E quindi non c'è niente da fare A parte magari provare a montare di nuovo quell'altro computer Raga Quello che mi ha fatto diventa pazzo Magari ci posso riprovare Quanto meno sappiamo che il case è buono in teoria Ma poi perché sto job link? Che vuol dire? Ma io l'ho comprato Ah, no, no Non c'entra niente Cioè mi mette confusione a me questo job link Vi dirò, eh Ok Allora Che vedevo di Io proverei di nuovo a capirci qualche cosa Ma c'ho sempre quei componenti Io vorrei tanto provare a capirci qualche cosa No, aspetta Non devo fare così Alla fine da qui i pezzi li prendiamo comunque Allora, dunque Motherboard Quella c'ho Ed è buona Non è rotta Almeno non me la segna rotta Quindi Cioè veramente Alla fine sto a rimontare il pc come era prima Ma stavolta Stavolta la scheda video ce la voglio mettere subito Perché è lei che mi ha fatto impazzire Questa volta la scheda video io ce la voglio applicare immediatamente Ma proprio la prima cosa che voglio fare Voglio proprio vedere se me freghi di nuovo Ah no, aspetta un attimo In teoria questo devo togliere Allora scheda video Grafiscale Non abbiamo scheda video Ah già Perché è incompatibile Ma me lo spieghi Ma io non sto a capire se il problema è il case Ma io devo fare una cosa raga Io devo comprare un altro case Cioè Devo capire che caspita è questa storia Devo comprare un altro case Non sto a capire se il problema è il case Perché mi dice che è incompatibile Cioè come cavolo è combinata sta storia qua Lascia stare questo case Va Compriamo un case Io sta cosa proprio No la devo capire No la devo capire la devo la devo capire Allora case Uno Non lo so Uno che di sicuro non mi da problemi Problemi Eh Cos'è che non mi da problemi a me Boh Non lo so Be quiet Vai Uno bello silenzioso e tranquillo Vai Avanti Boh Andiamo Ci devo impazzì Ok Mamma mia Ma cos'è sta roba qua Boh Allora vabbè Almeno abbiamo risolto quel problema Con quel pc Ma ancora non è arrivato un computer Dove dobbiamo fare l'impianto a liquido Eh Ma cos'è tutta sta roba qua Ok Ok Ah si questo è quello che ho comprato io Ok E qua c'è il 1500 Allora Questo è No 1500 Ok Allora Ah qui c'è 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 quella liquido Qua non posso sbagliare Stavolta non credo che sbaglio Dissippatore Raga Stavolta c'è quella liquido Ah Voglio dire Non è che vado a mettere quella d'aria Allora Clean CPU Andiamo a pulire Perfetto Perfetto E mo' ce ne ho a mettere La CPU Il 1000 Ah no Questo è quello che devo Nel pc usato Ok Ok Questo dobbiamo mettere Tanto sicuramente non lo vuole Una CPU usata Di sicuro non la vuole Quindi Non può essere che Che sbaglio Allora CPU cooling Questo Il cavetto di alimentazione E Copriamo Avanti Dovrebbe partire Ma che carino Oh Mitica c'è podi Che sta da fare Sta da festeggiare Lol Che so bellini Tutte e due Allora Questo Odoriamo E Subito Me faccio pure Pagare Arrivederci Poi Rimuovi virus Accetta Questo è facile Facile Abbiamo sbloccato Nuove parti Allora Qui ci vuole Il camo Camo Appliciamo Green camo Ok Allora Vediamo un po' Di capirci Cos'è Il green camo Case Customization Forse E credo di si Green camo Eccolo qua Aspetta E Il Che Eppure Nel vetro Non lo dice Non lo dice Se lo vuole Nel vetro Sinceramente Ah ok Da apposto Facile di così Cavolo Ok Cos'è questo Allora voglio Tutti gli rgb Blue Con musica Questo deve essere Una cosa nuova Suppongo Non mi è mai Capitato Mi pare Transito Transito Ok Allora Questo è il case Nuovo Ragà Vediamo se Mi rompe le balle Pure questo case Tanto ho un mucchio Di spazio Qua Per Provare Allora Voglio proprio Vedere se Se mi deve rompere Le scatole Dunque Mother Motherboard Mettiamola qua Addirittura Non abbiamo messo Neanche i piedini Non ce n'era bisogno Ah Fammi vedere Se mi devi rompere Le scatole Installa Graf Oh Vedi Era un cavolo Di problema Di case Ma che caspita Di scheda video Ci va in quel case Se non ne accetta una Cioè Boh Vabbè Allora Stavo impazzito Quel case Ma che ci mettiamo A 1050 Boh Non lo so No Mi tolgo la 750 Questa magari Mi viene chiesta In qualche lavoro Ok Vai Porca miseria Mi stavo a fare Impazzì Per davvero Stavo impazzendo Il 1400 E il 2006 Boh Ma che me frega Vai 1400 Tanto Ci guadagnerò Poco Comunque Quindi Che mi cambia Beh D'altronde Schede video Scarsa Mettiamo pure Processore Scarso Togliamoci Quindi Questo Togliamo Questo Quindi Che Mi ha Fatto Impazzì Colleghiamo Anche Le ventole E Poi Colleghiamo Vabbè Cos'è La parte Audio Qui Questo No Parte audio USB Questi qua E Poi Il Vediamo Un po' Oh Memory Quanti ne ho Broken Via Ok Abbiamo queste Che so Perfette Ok Mettiamo Queste Memory Così Me le tolgo Dalle Balle Così Mi tolgo Tutti Questi Pezzi Vecchi Storage Questo Mi sa che Va montato Dietro Pure lui L'SSD Mi sa che Va dietro Eccolo qua Invece Il Mortoni Va Messo Qua Colleghiamo I Cavi Alla Schieta Madre E Manca L'alimentatore Per alimentare Il Tutto Qui Ne abbiamo Uno Che è Perfetto Così Mi libero Di Tutta Questa Tutti Questi Componenti Usati Colleghiamo La scheda Madre All' Alimentatore Colleghiamo L'hard Disc All' Alimentatore L'SSD All' Alimentatore Colleghiamo La scheda Video All' Alimentatore E La CPU Si La corrente Che va All' CPU All' Alimentatore E Fino a Qua ci Siamo Allora Cavi Non mi Interessa Case Fan Già C'è Mi pare Che Non manca Stavolta Niente Credo Di No Mi pare Di No Credo Di No Non manca Niente Vero Effettivamente Sto notando Una cosa Raga Ma Nel gioco Ci stanno I lettori CD Non li ho Ancora Notati Non ci ho Fatto Proprio Caso DVD Blu Ray Effettivamente Questa cosa Non l'ho Ancora Mica Vista Fammi Un po' Vedere Perché Voglio dire Ci stanno Gli slot Ovviamente Però DVD Cioè Mi sta a Dì che Nel gioco Ah Nel gioco Non ci stanno I lettori CD Dì Sto notando Non è Realistico Voglio dire Ok Che non si usano Più Come 10 15 Anni Fa Però Voglio dire A toglierli Proprio Perché Scusa Qui sopra Ci vanno I lettori CD DVD Vabbè CD Ormai Non li fanno Quasi Proprio Più Ma almeno DVD E Blu Ray Ma Non li fanno Più Nel gioco Non li fanno Nel gioco È tutto tramite Chiavetta USB È vero Che ormai Sarà Quello Il futuro Cioè È ovvio Però Vabbè E Dunque Niente Credo che Il PC È pronto Per essere Provato Pare che Funziona Tutto E direi Che funziona Sì Oh Finalmente Posso vendere Va Che bello Sette Anzi Questo Lo chiamiamo Mal di testa Sette Anzi Mal di testa Uno Mal di Testa Uno Che questo Mi ha fatto Impazzì Ok Poi Ah già Non ho fatto Overclock Ma tanto Sono tutti I componenti Proprio Scarsi Quindi Vorrei venderlo A 999 Sì Si può Fa Ce la Verò Profitto Ma Con tutti I soldi Che ho Speso Mi sa Che il Profitto Questa Volta Sarà Scarso Ma Vabbè Pazienza Meglio Poco Che Niente A Proposito Ci sono Altri Computer Dove Posso Impazzire Tranquillamente Questo Qui Dice Che c'è Un Profitto Assurdo Perché C'è La scheda Video Rotta Io Ne ho Ne ho Una In più Ma Ne Libero Subito Subito C'è Una 1050 Questo Diventava Che bello Set Qua c'è Il case Che mi fa Impazzire Mo Lo tolgo Anzi Mo Mo Lo vendo Speriamo Che non rompa Le balle Qui Incompatibile Quale scheda video È compatibile Con quel case Nessuna Se non ci va Neanche la 750 Che è minuscola Quale ci va Forse devo togliere Anche questo Non ne sono sicuro Allora Graphics card La 980 È rotta Via Oh Vedi Oh Ora si ragiona Il cavo All'alimentatore Oh Fino a Bello Su questo case Mi piace C'è tantissimo È proprio Bello Ma se riuscissi Pure a farci Un po' Di overclock Facciamo Bingo F2 Anzi Fammi vedere La RAM Vedi XMP Off Già solo Quello Vale come Overclock I5 Ok Ma 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 Guarda Pure 100 MHz In più Mi fa guadagnare Di più Ci si prova Dobbiamo fare Una cosa Però Ci devo mettere Il test Allora OCC Mi sa che quello è obbligatorio In questa situazione Quando fai L'overclock Alla fine Alla fine anche solo 100 MHz In più Anche solo 100 MHz In più E va porca Ma sto cavoli Ma come è possibile Che non regge manco 100 MHz Neanche 100 MHz Tiene Ma come Ma che Forse ho un problema Di temperatura Può benissimo Essere anche Quello Non mi pare Che si può Fa qualcosa Per la temperatura Vabbè Allora facciamo così Ho provato Ad alzare il voltaggio Ma magari Il problema È la temperatura Però è dire Che è dire Che c'è Comunque Un dissipatore Cioè Vediamo Temperatura Teniamola ad occhio C più Temp 50 60 70 77 Non è un problema Di temperatura Non era un problema Di temperatura Speriamo che non rompiamo Speriamo che non bruciamo Col voltaggio Se no qua butto Sto piccino E cesso Ok Stavolta arretto Questa volta arretto L'overclock Per 100 MHz In più Ma Quei 100 MHz In più Mi permettono Di vendere Il computer Un pochino meglio Ah no Addirittura 100 dollari Ok Questo è Va che bello 7 Non è mal di testa 2 Va che bello Va che Chello Ma che cacchio scrivo Va che chello Poi proprio C'ho pure messo l'h Non è che ho scritto Va che cello Va che No va che cello Va che chello Va Va be Va bello Oh Ah perché devo scrivere Va che Io ho scritto Va che c'è Va be Lasciamo perdere Ah un mischiato Che Senza bello Ma fan che Non ce lo posso mettere Ma che Oh Ma ce la faccio scrivere oggi Ma che bello E porca zozza Avanti Sto computer 1999 Che è una meraviglia Te Quanto è Vai 79% Buono è Ok Sell Ma che bello 7 E bello per me Ovviamente Mica per il cliente Quello ricco divento io Allora sto Sto cavolo di case Io Lo vorrei proprio Cestinare Vendere Me ne voglio liberare Perché sinceramente Non ci voglio diventare scemo Che a me questo case Proprio Mi ha fatto esaurire Quindi Sai che te dico Arrivederci Non ti voglio più vedere In vita mia Non so che Non so che problemi Ha sto case Metti qua Apri Case Arrivederci Vai 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 Show Basta Non voglio impazzire più Con te Allora i lavori Ma che non ci abbiamo più lavori Ok questo In transito In transito Va bene Aspetta che c'era qualcosa No No niente da comprare And day Oh Mamma mia Va che mal di se Va che mal di testa Questi lavori Allora Vediamo un po' Facciamo quello dei virus Che è facile Facile Quello dei virus Virus Me ne libero Subito 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 Add program Virus Già solo che si chiama Warmy Ok Intanto che lui toglie i virus Io prendo questo Questo c'era da Da fa Che cos'è che vuole Tutti gli RGB Le luci RGB Blu Questa cosa Non me l'ha mica Spiegata il gioco Forse è una cosa Che si fa Forse si fa Aspetta Ora vediamo Allora la chiavetta Toglila Oh i virus Li togliamo No devo mettere La chiavetta qua Allora Per gli RGB Lightning Credo Però il gioco Questa cosa Non me l'ha proprio Spiegata Mi pare Comunque Lightning Proviamo Perché è l'unica cosa Che parla di luci Ok Shutdown Arrivederci Fatto Oh eccolo qua Eccolo qua Ci ho azzeccato Oddio Che devo fare Con sto computer Tutte le luci Blu Con la musica Tutti gli RGB Blu Power of on Seleziona Tutti Dove si sceglie Dove si sceglie Il colore Cos'è sta cosa Lightning Si ma La luce Dove si sceglie Preset Ok ma Non sto a capire Come si Lightning Effect Ma non è l'effetto Che interessa a me A me interessa Cambiare proprio Il colore Ma non lo sto Trovando Completamente Oh e che devo diventare pazzo Oh ma come è possibile Preset Preset 2 Che cambia Cambia niente Load E che carico Salva load Ma Questa è la velocità Ce la diventa pazzi Ok ma Il problema è Come cambiare Come cambiare Il tipo di colore È il mio problema Quello è il mio problema A di La verità Al momento Proprio Però è strano Che Non dice Come si cambia Il colore Boh vabbè raga Però lo lascio stare Va Vabbè Dammi questo Facile Install Tipo Tipo che Cioè questo Non ce la fa neanche Installarsi i programmi Io li devo installare io Ma dove siamo arrivati Tanta ignoranza Niente Questo computer Sinceramente Non c'è una data Di scadenza No Cioè Ho del tempo Posso far passare una giornata Ma Eh raga Non lo so Come si fa a cambiare il colore Non Il gioco non mi ha spiegato niente Facciamo passare una giornata Vediamo se arriva qualcos'altro Magari abbiamo venduto Qualche bello 7 O mal di testa 1 Magari Ok Questi sono arrivati Che sono arrivati Ok Ok Trova Sistema Questo computer Deve permettermi Di giocare A Questo gioco E voglio spendere Meno di 600 dollari Ok Vabbè Questi sono computer Che arrivano il giorno dopo Ovviamente Oh Abbiamo venduto Tutti i computer Mal di testa 1 Se ne è nato Meglio per me Vai Addirittura Va che bello 7 È quello che mi ha fatto Far più profitto Adesso Ci ho fatto un profitto Di Ho guadagnato il doppio Venduto a 2000 Ha guadagnato 1000 Cioè ho speso 900 Tipo Ci ho guadagnato di brutto Beh tutto sommato Questo dice che ci ho guadagnato Pure abbastanza bene Anche se ho qualche dubbio Di la verità Ma comunque Va bene Siamo pieni di soldi Io comincio a chiedermi Ma in sto gioco Con tutti questi soldi Io che ce faccio A parte eventualmente Fare upgrade Pa che è sto bungle Ah ok Le recensioni Eeeh Part music shop Spire shop Shop sale Ah no Eeeh Ok Spire repair Con questo qui Ce faccio Gran profitto Di rotto c'è Scheda video Tanto per cambiare Va bene Poi lo riparo Eeeh Niente Un momento Dove era shop Dove era quella roba Power up Ecco qua Power up Ecco spendiamo un po' di soldi Nei power up Alla più veloce A installare le parti Non sarebbe male Eeeh Autoscrew Out Ok Le 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 viti si automontano Questo già ce l'ho Autocable E poi Ma se diventa tutto auto Io che cacchio faccio Non faccio niente Vabbè Boh Da qualche parte Sti soldi Li devo pur spendere Che ne so io Vabbè Oh raga Che dirvi Mi sa che Questo gameplay Lo concludiamo Io ancora Non lo so Quando è che ci fa fare Un po' di Di cosoli Di Di Impianta liquida Insomma Custom Non ce l'ha ancora Fatto fa Vabbè Raga Però il tempo L'ho finito Devo capire Qui Come si mettono Le luci Che non l'ho capito Blu Boh Forse Forse si fa Dal bios Boh Vedremo Vedremo poi Dai Vabbè Raga Io concludo Spero vi sia piaciuto Raga Il gameplay Ci si becca Come sempre presto Ciao Alla prossima Alla prossima